passano il primo cancello e sono in discesa tra 3 secondi non li vedo più bravo, noi appena vi vediamo partita partiamo bravo, ok, così scappa ha ricevuto, noi in codice ho più spazio a voi, tu hai più spazio a voi in salita Giulio vai piano, piano, piano lo vedo, non lo vedo, non lo vedo guida lui, guida lui attenzione signora vada fuori carabinieri vada fuori ferma la macchina da vero è bloccato da vero è bloccato scappa di giudo togli le mani da qui togli le mani togli le mani perfetto togli le mani di fagi alle mani i suti più board gadget Ok, no?